ad accogliervi sarà conegliano bentrovati al meteo fa fatica ad imporsi l'anticiclone il tempo sarà buono ma non mancherà una locale instabilità vediamo il dettaglio di martedì 30 maggio sul veneto sarà soleggiato cielo sereno poco nuvoloso ovunque poi nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone montane dove la probabilità di precipitazioni sarà in aumento come detto nel corso del pomeriggio temperature senza notevoli variazioni minime tra 14 e 19 gradi massime invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso tanto sole con cielo poco nuvoloso nelle ore pomeridiane saranno possibili locali temporali sui rilievi altrove prevarrà il sereno temperature minime comprese tra 16 e 18 gradi massime sui 25 e 27 gradi infine diamo uno sguardo al trentino alto adige dove avremo ampi spazi soleggiati al mattino a seguire a annuvolamenti e rovesci a carattere sparso temperature minime intorno ai 13 15 gradi massime sui 27 all'incirca dal meteo di antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci ad accogliervi sarà conegliano